Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Partiamo dalla corso ai gambetese all'andata e al ritorno il calcetti al sedere. Adesso facciamo otto giri di braccia avanti e indietro. Adesso faccio tre circonduzioni con il busto. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Un po' di pausa e volevo dirvi di rimanere a casa per il bene di tutti. Quasi? I'm so divided, starstruck, but Hades got some indecisive. I'm overfighting, but just can't wake up, call and sleep alone. This boy's some trouble, when he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no more. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Salti raccolti. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Love me, love me, love me. Un po' di pausa. Touch me, touch me, touch me, touch. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me, touch. Love me, love me, love me. Love me, love me, love me. I can't help myself, you're a drug to me. I just can't get enough. I know this is love, so come close to me. While we're still young and dark. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me Touch me, touch me, touch me un po' di pausa e ricomincieremo per le braccia adesso faremo i principiti con bottiglie ora faremo i bicipiti con bottiglie i bicipiti con bottiglie i bicipiti con bottiglie ora faremo i bicipiti con bottiglie ora faremo i bicipiti con bottiglie per il prossimo esercizio faremo gli addominali e dorsali per il prossimo esercizio 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 10 secondi di paura E subito dopo Arriva lo stretching Ciao 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 ti mancano i tuoi compagni di la verità fai vedere quanto tanto così un saluto a tutti gli attenti della società che anche gli allenatori restate a casa e continuato ad allenarmi e andrà tutto bene